Incontro stamattina a Parma, presso la Casa dell'Acqua, tra la governance dei consorzi di bonifica parmense ed Emilia Centrale per l'iter che riguarda l'invaso della Valdenza. Nominata la commissione tecnica giudicatrice con i consorzi che hanno scelto di allargare al massimo possibile il ventaglio dei membri qualificati della stessa commissione, affinché entro il mese di marzo possano procedere alla valutazione tecnica della qualità e pertinenza delle offerte pervenute. Tutto ciò prima della stesura del progetto è in grado di compensare il deficit idrico in Valdenza con conseguente individuazione di un invaso idoneo a compensare le carenze stimate. L'interruzione dei collegamenti fra Terenzo e Fornovo provoca disagi e polemiche di residenti e aziende costretti a seguire una viabilità alternativa e disagevole e che allunga i tempi di percorrenza. Per questo serve accelerare la ricostruzione del ponte di Ozzanello nel comune di Terenzo. A chiederlo in un'interrogazione in regione è Pasquale Gerace di Italia Viva che ricorda come i violenti temporali del 30 ottobre scorso abbiano causato frane, allagamenti e smottamenti in particolare nel parmense. Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla Giunta se a conoscenza della tempistica prevista per l'erogazione delle risorse messe in campo per il ripristino del ponte.